buongiorno buongiorno a tutti benvenuti benvenute grazie mille per per essere qui avremmo voluto tutti avere eric e manuel smith qui in presenza ma insomma un festival dedicato agli assenti alla fine abbiamo sforgugliato questo concetto e quindi insomma ce la siamo un po' tirata ecco verrebbe da dire perché purtroppo eric e manuel smith ha contratto il covid peraltro l'ha contratto in italia quindi ci sentiamo anche responsabili di essere iuntori ma ma lui è stato estremamente disponibile con noi pur non stando bene voleva esserci voleva insomma voleva incontrarci aveva voglia di parlare con noi della morte dell'assenza del suo ultimo libro la sfida di gerusalemme qui adesso noi chiedo alla alla regia di mettere eric e manuel smith in collegamento con noi lo vedremo lo vedremo in realtà lo vedrete più grande di quanto l'avreste visto se fosse stato qua seduto seduto accanto a me e vedrete anche un pezzo di vita privata di eric e manuel smith grazie mille eric e manuel smith per essere qua con noi e ha un'ottima cera se posso permettermi allora noi abbiamo dedicato il festival ormai lo sapete più che bene al tema della morte e al tema degli assenti e la morte la morte è un grande mistero ma la morte anche limite la cosa di per sé è già curiosa perché in genere noi pensiamo al mistero nei termini di qualcosa di sconfinato e non abbracciabile quindi l'idea che il mistero rappresenti anche un limite tutto sommato è già un paradosso intrigante e la morte quindi a questa natura anfibia misteriosa grande sconfinata è tuttavia limitata però non sempre il limite toglie un pezzo di toglie la possibilità dello sguardo non sempre il limite arriva a eliminare l'orizzonte a volte il limite è un'ottima indicazione è un modo per dirti va bene c'è un perimetro mantieni il contatto con ciò che c'è oltre il perimetro mantieni la curiosità per ciò che c'è oltre il perimetro ma intanto indaga il perimetro che hai disposizione vai a setacciarlo in ogni angolo ciò che fa eric e manuel smith che è la ragione per cui avevamo davvero tanto piacere che fosse con noi e di indagare il mistero il limitato e limitato della morte in moltissimi suoi libri davvero setaccia questo perimetro e rivela quanto potenziale di conoscenza di stimolo di domanda c'è all'interno di questo limite che ci si parla davanti che ci sgomenta ma non solo ci sgomenta ci affascina anche e lavorare nel terreno limitato che abbiamo ci aiuta anche a mantenere vivace lo spirito la mente l'immaginazione ed è ciò che fa eric e manuel smith in tutti i suoi libri io vorrei partire in particolare dall'ultimo libro di eric e manuel smith la sfida di gerusalemme che quando mi è arrivato quando è arrivato sulla mia scrivania io appunto ultimamente parlo solo di morte con tutti quanti e ho aperto ho aperto il libro e la primissima le prime due parole sono perché partire punto di domanda perché partire che è una domanda che vale per la vita ma è una domanda che vale anche per la morte perché gli assenti dei quali noi parliamo sono quelli che se ne sono andati non ci sono più non sappiamo dove però sono andati sono partiti e noi stessi quando vediamo gli altri partire ci chiediamo ma perché bisogna andarsene perché la morte perché partire è una grande domanda io vorrei che eric e manuel smith iniziasse da qui da questa domanda che l'ha condotto a un pellegrinaggio che è un pellegrinaggio tra terra e cielo tra vita e morte e dunque perché partire eric e manuel smith io credo che c'è molto importante di partire cosa vuol dire cosa partire? cosa vuol dire quittare ses proches quitter ses habitudes quitter ses pensi ordinari quitter l'homme qu'on è per poter essayer di diventare un homme différent perché quando partire on redeviene fragile on redeviene vulnerable e finalmente on peut s'ouvrir a de nouvelles expériences perché partire perché partire è molto importante molto importante perché significa lasciare significa lasciare qualcuno lasciare le persone a cui si vuole bene lasciare le proprie abitudini lasciare anche i propri pensieri se vogliamo lasciare quello che siamo per diventare qualcuno qualcosa di diverso e poi quando si parte si diventa fragili si diventa vulnerabili ed è per questo appunto che è così bello anche partire e lei è partito in cerca di in cerca di un'assenza ha sentito un richiamo tra l'altro è curioso che nei suoi due libri che trattano poi di esperienze di intense esperienze spirituali la sfida di Gerusalemme ma anche la notte di fuoco iniziano sempre con una telefonata cioè probabilmente lei è nella rubrica telefonica di Dio e dunque e dunque lei parte inseguendo qualcosa lei parte inseguendo qualcosa che non sapeva ancora che cosa fosse che cosa pensava di andare a cercare a Gerusalemme? allora non è che ce l'ha Dio però devo dire il Vaticano ce l'hanno in tanti effettivamente io ho ricevo un coup di filo tutto a fait straordinario Lorenzo Fazzini che dirige le presse del Vatican mi ha detto in me dice in me dice che ci sono e la libertà che la libertà che hai che la libertà che hai e la libertà che hai la libertà e On rêve che vi revenia con un libro che sarebbe il carnet di voyage di un pèlerin d'aujourd'hui in la Terra Sainte d'aujourd'hui. E tutto di fatto, io gli ho detto, sì per il voyage, non per il libro, perché io non scrivo un libro che se fosse qualcosa di forte durante il mio voyage. E finalmente, questo voyage è stato molto riche che, si t'entrò che io, ho scritto il libro. Dunque, effettivamente sì, tutto è cominciato con una telefonata, non da Dio, ma bensì appunto dal responsabile delle edizioni vaticane, che mi ha detto, allora, noi qui in Vaticano adoriamo tutti i tuoi libri, adoriamo quello che scrivi, ci piace molto il tuo rapporto con la fede, ci piace molto la libertà con cui tu ti rapporti alla fede e abbiamo un sogno qui in Vaticano. Ovvero vorremmo tantissimo che, visto che abbiamo scoperto che non sei mai stato in Terra Santa, vorremmo che andassi a Gerusalemme. Ti organizziamo tutto noi, non ti preoccupare. E vogliamo non solo che tu però vada a Gerusalemme, ma che torni con un carnet de voyage, con un diario di viaggio, diciamo così. Sì, perché appunto quando si fa un viaggio interessante è probabile che poi uno abbia un'esperienza che vale la pena di essere raccontata. Cosa ne dici? E io ci ho pensato un attimo e ho risposto dicendo, sì per il viaggio, no per il libro. Perché? Perché io non posso scrivere un libro a comando, io posso scrivere un libro se faccio un viaggio e poi questo viaggio è talmente intenso che ho qualcosa da raccontare. Quindi non mi sono impegnato all'inizio. Poi devo dire che effettivamente sono tornato, l'esperienza è stata talmente ricca, talmente intensa, che appena rientrato a casa ho cominciato subito a scrivere. E tutti i suoi libri sono molto intensi. Io vorrei che ci prendessimo la libertà di muoverci attraverso alcuni suoi testi che ci sono anche stati cari nel lavorare su questa edizione. In particolare, per esempio, per me è un testo su cui ho tanto anche lavorato in passato è Oscar e la dama in rosa. Oscar e la dama in rosa è la storia di un bambino, lo dico per il pubblico ma penso che molti lo conoscano, è un bestseller, insomma un bestseller continuo. È la storia di un bambino in ospedale e Oscar sa che dovrà morire e fa i conti con come ci si sporge su questo limite appunto. E ci sono delle frasi molto belle e ci sono degli insegnamenti molto profondi. E uno è un insegnamento che vale per la morte, vale per la vita, vale forse anche per un pellegrinaggio. Cioè di andare non avendo paura ma avendo fiducia. Madame Rosa che si occupa di Oscar, che gli dice Oscar io ti propongo di non avere paura davanti alla morte ma di avere fiducia. volevo chiedere a Eric Emanuel Schmitt qual è il suo modo di sporgersi sull'idea della propria morte con paura, con fiducia. Vorrebbe che la morte arrivasse a coglierlo all'improvviso oppure vorrebbe una morte vigile, avere il tempo di capire che cosa gli sta accadendo come se dovesse andare ad abbracciare un ultimo importante appuntamento. Allora, come sono tutti gli uomini, non sono pressi. E... Qu'è ce que la morte? Je crois que personne ne peut répondre à cette question. Et je me méfie de ceux qui prétendent savoir. Ceux qui disent c'est le néant, qu'en savent-ils? Ceux qui disent il y a le purgatoire à gauche, l'enfer à la cave et le paradis au grenier, qu'en savent-ils? Pour moi, la mort est un territoire totalement inconnu. Et c'est donc pour nous un mystère qui est devant nous. Alors, nous sommes habitués au mystère, puisque c'est déjà mystérieux de vivre. Le premier mystère, c'est celui d'être là, présent, au milieu des autres. Alors, le mystère de la mort, j'essaye de l'habiter ce mystère avec confiance. Je vais continuer après. Allora, diciamo che come la maggior parte degli uomini, non è che ho tutta questa fretta di capirne di più sulla morte, ecco. Però, me lo chiedo, che cos'è la morte? Una domanda che alla fine è impossibile non porsi, ma è una domanda a cui è molto difficile dare una risposta, perché di solito le persone che mi vengono a dire che sanno, che ti raccontano che cos'è la morte, io non mi fido tanto di questa gente, quelli che ti dicono, ah, la morte è il nulla. E come fanno a saperlo che la morte è il nulla? Piuttosto che quelli che ti dicono, sì, sì, la morte poi finisci, a destra c'è il purgatorio, sopra il piano attico c'è il paradiso, in cantina c'è l'inferno. No, non è tanto così, secondo me. La morte è qualcosa di sconosciuto, appunto è un mystère, ma è un mystère, e noi in un certo senso siamo abituati ai misteri, perché se ci pensiamo già al fatto di vivere, di essere qua in mezzo agli altri a trascorrere le nostre giornate è un mistero, quindi nulla di nuovo. Però effettivamente c'è il mistero della morte, e io cerco di affrontarlo con fiducia. E ora continuo. In effetti, in mia vita, ho conosciuto tutte le colori della vita spirituola. Io sono nato in una famiglia athaa, io ho ricevuto la foi in Dio nel deserto del Sahara, e io mi sono approcato del christianismo, definitivamente, come ho raccontato in Dio di Giuseppe. Quindi, io conosco molte mani di vivere nel mondo del mistero. Quando ero athena, io abitavo il mistero con angostia. Dopo che sono croyante, io abito il mistero con confianza. Quando non comprendo, io faccio credito. Io mi dico che se si le cose mi schiappe, che viene da me limiti e non da me limiti del mondo. Quindi, io sono diventato molto più humble. E io sono confiante. Allora, la morte, non so cosa è, ma c'è confione. E per me, non può essere qu'una buona sorpresa. Io devo dire che ho vissuto tutto un ventaglio di vita, dal punto di vista, soprattutto intellettuale, se vogliamo. Perché io sono partito ateo, da una famiglia atea. Ho scoperto la fede durante un'esperienza nel deserto del Sahara. E poi ho abbracciato il cristianesimo durante l'esperienza, appunto, di cui parlo nella sfida di Gerusalemme. Quindi, devo dire che, ovviamente, il mistero ha accompagnato in modo diverso tutta la mia esistenza. Quando pensavo alla morte, essendo ateo, devo dire, mi generava decisamente dell'angoscia. Ma quando sono diventato credente, invece, ho cominciato a guardare alla morte con una certa fiducia. Questo sì. Sono consapevole del fatto che non capisco che cosa possa accadere. Ma quando non capisco, come in questo caso, tendo a dar la colpa a me, alle mie limitazioni, non alle limitazioni del mondo. Ecco, per cui, in questo caso, sulla scorta di questa consapevolezza, provo una certa fiducia. La morte, devo dire, non so esattamente cosa sia, ma, per l'appunto, sono fiducioso. E sono abbastanza sicuro che sarà una bella sorpresa. Senta, nella sfida di Gerusalemme, beh, lei tocca varie tappe di viaggio in questo pellegrinaggio che lei fa con altre persone. Sono anche molto belle le relazioni che nascono tra lei e alcuni degli altri pellegrini. È un percorso che va verso un incontro speciale del quale parleremo. Ma ci sono già altri incontri di cui il suo percorso è costellato e ce n'è uno che ho trovato anche commovente e che ci rimanda a un altro suo libro. E quando lei è a Betlemme, nella Basilica della Natività, accade questa cosa molto bella, che lei si sente come se la stesse visitando insieme a sua mamma. Sua mamma che è al centro di un altro splendido libro, che mostro al pubblico, che è il diario di un amore perduto. Ed è la storia, non è la storia, è la storia vera, la storia intima della perdita, della morte della mamma di Erich Emanuele Schmitt, al quale era legatissima. Ci sono, tra l'altro, a questo incipit folgorante, mamma è morta stamattina, è la prima volta che mi fa soffrire. Bello, tra l'altro, ricorda lo straniero di Camus, la mamma è morta quest'oggi, però in più c'è questa cosa, è la prima volta che mi fa soffrire. Volevo chiederle della sofferenza che ci lega ai morti, ai nostri morti, perché a volte io credo che diventi un ostacolo. Cioè noi vogliamo restare legati a loro e non vogliamo smettere di soffrire per loro, perché sennò ci sembra di perderli ancora di più. E volevo domandarle, lei pensa che il dolore sia un ponte tra noi e i morti, oppure in realtà è quando si attenua un po' il dolore, che si rimuove la barriera e allora li sentiamo? Io credo che la morte dei altri mi fa soffrire molto più che l'idea di mia morte. Il primo, l'absenza dei persone che mi piace, perché è irriversibile, è una dolore infinita. E là, devo avouer che avere la voce non cambia nulla, il chagrino è il chagrino. Il y a un piange in il dolore, c'è che quando l'Être che l'aime è parte, l'on è triste, ma l'aime sa tristesse. Il chagrino è il dolore, la dolore è la nuova forma che ha prisa l'amore che l'on ha per qualcuno. Allora, l'on privilégie questa dolore, l'on se rile dentro, l'aimo questa dolore, perché è la nuova forma di l'amore. Allora, nel libro, Journal d'un amore perduto, io cerco di mostrare tutti i momenti del dolore, quando noi lo trasversiamo. E c'è forse un momento dove l'on vuole coltivare la dolore, perché è il dernier rapporto che abbiamo con la persona che è perdita. E io sai che la mia madre non avrebbe supportato di me vedere triste, perché lei mi aveva appris l'avis in me dicendo che dovrebbe essere felice. Quindi avevo, per rapporto a lei, un devoir di bonheur. E nel libro, io raconti come durante due anni, due anni e me, tre anni, io cerco di trovare il nostro cammino di bonheur, allora che un essere essenziale, per me, aveva disparito. Dunque, devo dire che la morte degli altri probabilmente mi inquieta molto di più di quella che potrà essere la mia morte. E questo perché? Perché ovviamente la morte di qualcuno vuol dire l'inizio dell'assenza di quella persona. È un'assenza assolutamente irreversibile ed è appunto l'inizio di un dolore infinito, se vogliamo. E posso dire che la fede in questo non è che aiuti molto, per quanto mi riguarda, perché il dolore c'è, c'è questa grande sofferenza appunto. Ma c'è una sorta di trappola in cui si può cadere quando si prova il dolore di un lutto, perché da una parte siamo molto tristi, ma dall'altra c'è anche una sorta quasi di amore per questa tristezza. Perché? Perché appunto il dolore è l'ultimo, se vogliamo, legame che ci permette appunto di mantenere il contatto con la persona amata che non c'è più. È come fosse la nuova forma di questo amore. Questo amore prende una forma diversa e quindi, benché sia triste, benché ci sia la sofferenza, noi proprio ci crogioliamo quasi in questo amore, gli vogliamo bene a questo dolore, perché è una nuova forma appunto di questo amore. Io devo dire che appunto nel libro parlo anche di tante forme di lutto, di tante fasi, se vogliamo, del lutto, in cui si cerca in qualche modo di capire cosa è successo e di coltivarlo per l'appunto questo dolore, che effettivamente è un rapporto, l'unico che ci resta con i morti, per cui è anche ovvio che non vogliamo rinunciarci. Anche se in realtà mia mamma, di questo io ero molto consapevole, lei non mi avrebbe mai voluto vedere triste. Mia mamma nella sua vita ha sempre cercato di spronarmi a essere felice e quindi io nei suoi confronti sentivo un vero e proprio dovere alla felicità e nei due, due anni e mezzo, tre anni di cui parlo appunto nel libro racconto proprio questo, racconto il mio tentativo di tornare a questa felicità. C'era una cosa bellissima che diceva Simone Weil, diceva che la sofferenza è una meraviglia della tecnica divina, perché diceva che ti rinvanga talmente l'anima che te la ammorbidisce e quando torni alla felicità, la felicità è ancora più vera. Sarebbe bello poi andare a chiedere a Dio perché queste tecniche divine sono un po' strong, però insomma, e tra l'altro ecco, passiamo, c'è un altro libro in cui lei fa questa cosa di intervistare Dio, che letterariamente è una cosa molto intrigante, è l'uomo che guardava attraverso i volti questo suo libro, che è ancora un libro sul legame tra il regno dei vivi e il regno dei morti, è un libro che si, lo sfondo sono gli attentati che ci sono stati in Francia e c'è questo protagonista, Augustin, che vede i morti, vede i morti accanto ai vivi, vede i morti che li ispirano e Eric Emanuel Schmitt è protagonista anche, come Eric Emanuel Schmitt all'interno di questo libro e ha dei morti che lo accompagnano di tutto rispetto. Le hero di mio libro ha una capacità tutto a fatto speciale, singuliera, e il vuole, attorno ai persone, le morti che li accompagnano, perché credo che noi siamo tutti accompagnati da dei morti, cioè dei persone che hanno avuto una influenza su noi, dei persone che sono le tissu di nostra vita, perché ci hanno influenzato. Quindi credo che tutti noi trasportiamo dei morti. E allora, ciò che vuole anche il mio hero, c'è quando una persona ha una relazione apassata con i morti, o una relazione conflictuale con i morti. perché ci sono dei persone che sono dominati dal passaggio, che non hanno sempre preso di libertà per rapporto al passaggio, e quindi sono dei esclati, che sono condizionati, che sono fattati, eccetera. E poi ci sono dei esseri che sono semplici per il passaggio, è a dire che le persone che li hanno fatto sono là, ma non di una forma tyrannica, ma al contrario come un accompagnamento. E c'è una forma, per me, in questo libro, di parlare di una forma poética di libertà. E poi ci sono dei esseri che hanno trovato una liberta per rapporto a queste influenzze. Quindi ci sono dei esseri che sono sotto la domina di loro morte, che sono in una prison, una prison ideologica, una prison affectiva, una prison familiale. e poi ci sono dei esseri che sono arrivati a essere anche con tutto questo, grazie a tutto questo, in dialogo, con tutto questo. Moi, ho l'impression di essere perpettivamente in dialogo con le persone importanti che hanno fatto la vita. Allora, ovviamente, ci sono dei proi, la figura di mia madre étant una figura assolutamente essenziale, ma è vero che c'è anche Diderot, Charles de Foucault, diverse amme senza le quali non sarei più come sono. Sì, effettivamente è proprio così. In questo libro il protagonista vede non soltanto appunto i morti attorno alle persone, ma soprattutto i morti che accompagnano, se vogliamo, queste persone, che accompagnano tutti noi, perché effettivamente è un po' quello che penso anch'io, cioè il fatto che tutti noi siamo accompagnati da tutti i morti che hanno avuto in qualche modo un'influenza su di noi, persone che magari ci hanno appunto lasciato qualcosa, oppure persone che hanno avuto un'influenza talmente profonda che ci hanno proprio aiutato a tessere la nostra anima, per così dire. Insomma, persone che hanno avuto appunto un impatto sulla nostra esistenza. E però c'è una differenza, nel senso che appunto in questo libro il protagonista vede sia chi ha un, diciamo, buon rapporto con i propri morti e chi invece ha un rapporto un pochino più conflittuale, perché ci sono delle persone che magari hanno un rapporto quasi di dominanza, nel senso i loro morti li dominano in maniera quasi negativa, il passato li rende schiavi, mentre ci sono invece delle altre persone che vengono arricchite dal proprio passato, dalle persone che hanno fatto la differenza appunto nel loro passato. In questo caso queste persone non hanno questo rapporto tirannico, se vogliamo, con i loro morti, che appunto sono un po' i raguzzini, ma vengono semplicemente accompagnate nel loro cammino. Quindi per me lo scopo che mi proponevo con questo libro era quello, in maniera poetica se vogliamo, di soffermarmi sul concetto della libertà rispetto a quelle che sono le nostre influenze, queste presenze, questi morti che ci accompagnano, riflettendo su appunto sulla libertà. Noi siamo liberi da tutto questo, da tutte queste persone che ci portiamo accanto oppure no, perché certe persone appunto sono un po' se vogliamo prigioniere, prigioniere di queste influenze che possono essere di tipo affettivo, familiare, ideologico, questi morti che continuano ad avere la loro presa su di noi anche dopo appunto la loro morte. Poi ci sono invece le persone che riescono ad avere un rapporto più equilibrato, diciamo più costruttivo con i loro morti e quindi addirittura ad essere se stessi dialogando con questi morti che ci accompagnano. E devo dire che io ho sempre cercato di dialogare con appunto penso di avere questo tipo di rapporto con i miei morti, di dialogare appunto con tutte le persone che hanno avuto un ruolo importante nella mia vita ed effettivamente queste comprendono ovviamente i miei cari, mia mamma come giustamente dicevi, poi c'è anche Diderot, ad esempio, c'è Charles de Foucault, insomma ci sono tutta una serie di anime che mi hanno accompagnato che ora mi accompagnano. Ecco, per esempio Charles de Foucault è un'anima che l'ha accompagnata e l'ha accompagna ancora fortemente anche nell'ultimo libro, nella sfida di Gerusalemme. Charles de Foucault è una figura eccezionale, il visconte Charles de Foucault ha avuto una vita, anche lui ha avuto una fase di ateismo, poi ha avuto un fortissimo interesse per le religioni, è stato militare, è stato esploratore, è stato pellegrino nel deserto, è stato un monaco, un monaco solitario che portava il Vangelo dove il Vangelo non c'era, proprio nel deserto del Sara, muore poi nel 1916 ucciso, ed è una figura che per Eric e Manuel Schmitt è preziosissima, ed è alla radice della sua prima esperienza di trascendenza che lei narra nella Notte di Fuoco. Mi piacerebbe chiederle di raccontarci quella esperienza, ma anche l'esperienza invece di cui parla nella sfida di Gerusalemme, perché sono due momenti in cui incontra l'inabbracciabile. C'è incredibile, perché Charles de Foucault è un uomo del XXe secolo, è la figura del missionario che non ha mai convertito a nessuno. Quindi, secondo i criteri di questa epoca, questo uomo era un ucciso. e oggi, molti considerano che il è una figura di la riuscita chrattina, e non non di l'escec chrattina. E quando ho avuto il buono di parlare con il Pape François, abbiamo parlato molto di un po' di Charles de Foucault, perché per lui anche, è una figura spirituale importante, ma è magari una figura di ciò che deve essere il missionario di oggi, c'est-à-dire non di tutto qualcuno che conquiere, che oblige gli altri a cambiare d'idea, che impone la sua force e la sua civilizzazione, ma, al contrario, come Charles de Foucault, l'uomo che vive nel mondo non chrattino, con delle valorezioni chrattine. Quindi questa figura di l'escec è diventata un po' il flambello potrebbe essere del cristianismo oggi. Io continuo dopo. Sì, devo dire che effettivamente è una figura davvero incredibile quella di Charles de Foucault, perché? Perché effettivamente, se vogliamo, benché sia vissuto un diverso tempo fa, grazie, qui cambiamo di problemi molto low-tech, ma effettivamente è un missionario, è il peggior missionario che si possa immaginare, perché insomma aveva tutto questo entusiasmo e faceva tante cose e tutto, ma è l'unico missionario che non ha mai convertito nessuno. Quindi veramente un totale fallimento dal punto di vista professionale, se vogliamo vederla in questi termini. però oggi, come oggi, se si guarda invece a quella che è la sua figura, a quello che lui ha fatto, ebbene, oggi è chiaro che invece è un grandissimo successo quello che ci racconta la storia appunto di... Sì, sì, non mi sento ma... E' un grandissimo successo quello appunto che accompagna la figura appunto di Charles de Foucault, non è assolutamente un fallimento e vi posso dire di più che effettivamente quella sua figura è talmente intensa e appassionante e che ho avuto modo di parlarne anche con il nostro amato Papa Francesco e durante questa conversazione che abbiamo avuto devo dire che ci siamo soffermati proprio a lungo su questa figura, sulla figura appunto di Charles de Foucault, perché appunto è passato dall'essere visto come un fallimento ad essere visto come lo vedo io, come lo vede appunto lo stesso Papa Francesco, ovvero come dovrebbe essere il vero missionario cristiano, cioè non qualcuno che va in giro a dire agli altri cosa devono pensare, cosa devono fare, come devono vedere le cose, che impone di forza qualcosa, ma al contrario qualcuno che in sostanza vive e incarna quelli che sono appunto i valori cristiani. E quindi se vogliamo è un po' lui che porta avanti ancora oggi, nonostante appunto sia da tanto tempo, appunto sia vissuto tanto tempo fa, però comunque sia porta ancora oggi alta appunto la fiamma del cristianesimo. E quando sono arrivato a Nazareth, ho quittato il pèlerinaggio, ho mi sono faiuto per andare nel giardino dove si occupa Charles de Foucault quando era a Nazareth. C'è un'amore che era un'aristocrate, un'amore, 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 aveva tutto quittato per diventare il più humo dei humi, diventare il jardinier dei Sœurs Clarissi a Nazareth. E quindi io vengo in questo piccolo giardino dove io vedo i arbrei dove il s'è occupato, io sento cantare dei oisei che sono sicuramente le descendants dei oisei che l'a entendu, io vedo la simplicità di questo mondo, io sono abbastanza meravigliato. E c'è là che ho comprendo una cosa che era per me incompréhensibile, l'invento, la notion di saint. Moi qui sono nato in una famiglia athaa con un'instruzione athaae, bon, Dio, che mi sembrava già lointana, ma allora il s'è stato qualcosa che non ho capito non capito. C'è un'amore che non capito. a Nazareth, io comprendo che in realtà, in mia vita ho un sang, ho un guide. C'è per scrivere un film di cinema su Charles de Foucault, che io ero in il deserto del Sahara, in 1989, su queste tracere, e c'è lì che mi sono perduto, e c'è lì che ho vinto una nuova di ecstase, una nuova mistica, una nuova di fuori. C'è lì che ho ricevuto la voce nelle terze che l'abitano. E poi, arrivando a Nazareth, io comprendo effettivamente che il è sempre là, in me guider, e che il mi indica che il 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 l'extrame simplicità, l'extrame depuiment, che dobbiamo conduire, e, 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 e poi, appunto cosa succede? Che io arrivo a Nazareth, che io arrivo a Nazareth, e, eh, decido di non seguire soltanto, come dire, il percorso che avevo pensato di, di, di fare durante il mio viaggio, decido appunto di andare a vedere il giardino, il giardino in cui, appunto, Charles de Foucault a Nazareth aveva lavorato. Stiamo parlando appunto di una persona, un aristocratico, una persona benestante, militare, questo o quell'altro, e poi dove finisce? Finisce in questo giardino, in questo giardino dove, ehm, si, eh, si occupa veramente di tutte le cose che io, e questa è anche stata un'esperienza molto intensa per me, che io ho visto quel giorno, perché io appunto ero nel giardino, eh, lo stesso giardino in cui lui, eh, si era, lui lavorava tutti i giorni, in sostanza, vedevo gli stessi alberi che forse lui aveva visto, vedevo, sentivo gli uccellini cantare, sono sicuro che fossero dei discendenti, degli uccellini che lui stesso scentiva a cantare, e, eh, appunto, c'era una, una sorta di, eh, di santità, di semplicità in tutto questo, che io faticavo veramente a comprendere, perché, eh, per lungo tempo tutto questo mi è stato incomprensibile, tenete conto che io sono nato ateo, sono cresciuto ateo, mi è stata data appunto un'educazione atea, per cui tutto questo concetto appunto di santità, di qualcosa che ti accompagna, che ti porta appunto al, eh, più vicino appunto a, a Dio, per me era veramente qualcosa di assolutamente estraneo, e poi sono arrivato a Nazareth, ho vissuto appunto questa esperienza, ma devo dire che il mio primo contatto appunto con Charles de Foucault non è stato in relazione appunto a questo libro, ma per l'appunto è accaduto nel 1989, quando dovevo scrivere una sceneggiatura sulla sua vita, e quindi per un film, mi sono recato appunto nel deserto, lì mi sono perso, e ho vissuto questa esperienza assolutamente mistica, che ha davvero cambiato tutto per me, e ho potuto anche lì veramente vivere sulla mia pelle, i luoghi dove lui si era, dove lui aveva vissuto, e veramente per me ha fatto una enorme differenza, e tornando appunto all'esperienza di Nazareth, in questo caso ad esempio, beh, tutto questo contesto, il giardino, è tutto ancora lì, per cui devo dire che veramente, ho potuto provare e sentire sulla mia pelle, questa sensazione anche di, anche di semplicità nel senso di spogliarsi degli orpelli, diciamo, che effettivamente, ho trovato addirittura eccessiva per me, perché mi rendo conto che quello che ha fatto lui, non avrei mai potuto farlo, non potrei mai farlo, però appunto è stata un'esperienza estremamente intensa. Ecco, nel deserto lei appunto ha vissuto questa esperienza, questa esperienza mistica, il deserto fosse il luogo migliore per vivere un'esperienza mistica, nel senso che non ci sono coordinate, lo spazio è una tale vastità, che è la vastità perfetta per l'accadere di Dio, però lei vive poi un'altra esperienza mistica, in un luogo che è tutto sommato, e questo è un po' l'opposto del deserto, perché Gerusalemme è una concentrazione incredibile di umanità, di conflittualità, di ricerca. Lei tra l'altro nel libro la definisce in molti modi, ne cito alcuni, alcuni, minacciosa, sospettosa, scontrosa, respingente, guerriera, perentoria, inospitale, aggressiva, tragica, orgogliosa, insolente, arrogante, insomma, arriverà anche a definirla benefica Gerusalemme, ecco. Ma mi piacerebbe che ci raccontasse di questa altra esperienza mistica che ha un'intensità veramente che colpisce. C'è un'intensità che ci raccontava Gerusalemme? C'è un'intensità che ci raccontava Quando io sono partito, io mi dicevo che questo viaggio era magari inutile, che mio cristianismo era costruito intellettualmente, che cosa che i piedi, in marchando là-bas, alli poter ad aggiungere a mia spiritualità? C'era dei dimenti e io n'attendaisi rien. E finalmente, c'è il momento in cui io ero più sceptico, più ironico, più voltairien, che io ero assolutamente sorpreso per una esperienza, e devo dire, per Dio. C'era il Saint-Sépulcre, io ero fatiguito, io non capisci cosa che vedo autour di me, tutti questi persone che abbrassero delle pierre, che allumano delle sierre, io ero anche tutto questo commercio religioso, io ero volevo fuire, io non mi ritrovavo in questo momento, ma non mi ritrovavo mi agrège a una fila e poi io comprendo che sia la fila che conduce al Golgotha, al mondo dell'Ukran, lì dove Pilate eseguita le prisonnier. Allora, io mi dico, io sono là, io resta, io guardo come si sta spaz, e io guardo la meccanica del pèlerinaggio, on s'agenudille, on fa un signo di croix, on resta 10 secondi e si viva, e mi dico, io devo fare parei. Ma c'era per l'assitudine, e poi tutto d'un coup c'è mio tour. E là, se passa qualcosa che io non capisco. Io sento un odore, un odore di corpo. Io sento la chaleur, la chaleur di un corpo, quando si approche di un corpo. E poi, io sento un guard su me. E' ovviamente, pragmatica, maturale, io cerco la causa di questa odore, di questa chaleur e di questo guard. E io ne li trovo non. E io sono un po' evaio, c'è violent, io ne comprendo non capisco, io detesto ciò che mi arriva. E poi, fort'heuresemente, le moine che riguarda la circolazione mi raci 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 contro un pilier che io comprendo ciò che viene di se passare. mi raci senti la presenza d'un homme mort il y a 2000 anni, d'un mort qui n'est pas mort. E' c'est un cadeau, c'est un immense cadeau. E' mi raci mi raci mi raci mi raci a pleuré mi raci 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 d'amor pourquoi recevoir tout ça e la réponse mi raci totalmente assommé io disai pourquoi tant d'amor e la réponse mi è venu par amor ed effettivamente c'è stata una vera e propria sorpresa che mi ha accolto a Gerusalemme io mi dicevo secondo me questo viaggio sarà assolutamente inutile perché arrivavo da sì c'era stata questa conversione cristianesimo ma puramente teorica diciamo nella testa e dicevo cosa possono portarci i piedi in questi posti però cosa mi cambia non mi cambierà assolutamente niente insomma ero pieno di dubbi riguardo a questa esperienza scettico molto scettico in maniera molto volteriana appunto trovo questa enorme resistenza a capire se questa esperienza potrà veramente apportarmi qualcosa quindi arrivo ed effettivamente appunto in questa città così piena di vita e tutto mi sento stanco mi sento mi guardo attorno vedo tutte queste persone che abbracciano queste queste grosse pietre mi sento quasi frastornato da quello che vedo attorno a me e vedo anche tutti questi commerci che riguardano la religione insomma mi sento quasi sopraffatto vorrei scappare non vorrei fare nient'altro che scappare poi vedo una fila di persone e dico ma chissà dove vanno queste persone mi metto in coda e scopro che è la coda per il Golgota dove appunto Pilato faceva portare alla morte appunto le persone e dico senti non so che fare oggi resto qua che cosa mi importa e quindi resto appunto in coda e a quel punto comincio a guardarmi attorno e capisco anche quella che è la meccanica del pellegrinaggio cioè vai lì ti metti in coda a un certo punto tocca a te qualcuno ti fa entrare tu ti devi inginocchiare ti fai il segno della croce una roba e l'altra io non è che ci abbia tutto questo entusiasmo però dico senti lo faccio anch'io e vediamo cosa succede quindi arrivo lì arriva il mio turno faccio anch'io tutti questi movimenti e a un certo punto con mia grande sorpresa percepisco un odore un odore di un corpo poi percepisco il calore il calore della vicinanza di un corpo cosa strana appunto anche in questo caso e poi percepisco anche lo sguardo di qualcuno lo sguardo di qualcuno e io sono uno pragmatico per cui comincio a riflettere a chiedere ma qual è la causa di tutto questo non capisco cosa sta succedendo e non riesco assolutamente a cavarne niente a trovare appunto una risposta a tutto questo quindi mi sento invaso quasi da una la mancanza di comprensione la trovo molto frustrante questa situazione detesto questa esperienza perché appunto mi confonde non capisco cosa sta succedendo insomma tutto questo accade lì finché un monaco che si occupa appunto di dirigere il traffico mi chiede gentilmente di allontanarmi perché il mio turno è finito è soltanto dopo che capisco cosa è successo ed è soltanto dopo che quella presenza che io ho sentito era la presenza di un uomo in carne e ossa che è morto duemila anni fa più o meno anche se non è proprio morto ed è stato devo dire un enorme regalo non so come altro definirlo è qualcosa che mi ha profondamente turbato toccato mi ha fatto piangere mi ha emozionato profondamente e mi ha fatto anche porre una domanda mi ha fatto mi sono messo a chiedermi ma perché perché questo amore perché il tuo amore ho chiesto e la risposta la risposta è stata semplice per amore è molto bella questa questa seconda esperienza che lei che lei ha vissuto e sono molto diverse tra l'altro le due esperienze quella vissuta nel deserto e quella vissuta a Gerusalemme perché lei nella notte di fuoco descrive quella del deserto come un espandersi una rarefazione un perdersi un diluirsi in qualcosa di più grande e invece a Gerusalemme lei si sente invaso effettivamente lei l'ha detto all'inizio le dà proprio fastidio quindi è proprio la vive come un'effrazione come se qualcosa entrasse violentemente violentemente in lei un po' come un po' come fa il visitatore nella sua commedia nella sua sì commedia tragedia assai celebre è molto forte questa sensazione fisica che lei ha vissuto e poi lei dice scrive nella stile di Gerusalemme dopo questa esperienza ho accettato la verità che è un'altra cosa che mi ha tanto colpito perché accettare la verità ha delle implicazioni complesse Sant'Agostino diceva che esistono due verità c'è la verità lucens che è quella che illumina finalmente tutto intorno a te e poi c'è la verità redarguens che quando la luce si rigira verso di te e ti fa vedere tutte le pieghe è una luce radente che illumina tutto quello che in te non funzionava allora volevo chiederle dopo che lei ha accettato la verità che cosa ha visto di sé che magari fino a quel momento avrebbe preferito nascondere in questa verità che magari non conosce e che si trattano di noi soprattutto sono altre D'abord, il faut precisare che ci sono due tipi di verità. Ci sono le verità di ordine racionale, le verità che possiamo tutti partire, 2 più 2 è 4. Le verità racionale non ha bisogno di nostro sentimento, non ne solicitano la nostra libertà, le verità, le verità, le verità, le verità, le verità, le verità. C'è la verità scientifica, la verità, la verità, la verità, la verità, la verità. E ci sono le verità delle esperienze vederte. E tutto ciò che ciò che è l'esprimazione, Blaise Pascal, il filosofo del XVIIe secolo, che per me è una figura extremamente importante, Blaise Pascal, che era lui un grande filosofo, un grande matematico, un homme di la rationalità e anche un grande croyante, convertito durante una nuova mistica, Blaise Pascal dice che l'esprit è fatto a la fine di razza e di cœur. Che l'esprit c'est tutto, e che l'ordere della razza e l'ordere del cœur sono distanti, e che il y a delle verità che l'on atteinti per la razza e altre verità che l'on atteinti che per il cœur, c'est-à-dire l'expérience, l'imagination, la sensazione. Et moi, effectivement, à Jérusalem, j'ai été confronté à une expérience, une expérience réelle, qui a totalement rempli justement mon esprit au niveau du cœur, et qui fait que maintenant, ma foi n'est plus un choix, c'est une adhésion à quelque chose que j'ai vécu. Finalement, je consenss à la réalité, j'épouse la réalité de ce que j'ai vécu. Et je trouve que c'est important de dire ça aujourd'hui, parce que nous sommes dans une époque où l'on préfère dire non que dire oui. Notre époque pense que l'intelligence, c'est la critique perpétuelle, la position critique perpétuelle. Je pense qu'il est beaucoup plus fort et important parfois de dire oui, après avoir critiqué, que de dire toujours spontanément non, et de se tenir à distance de tout ce que l'on peut vivre et de tout ce que l'on peut expérimenter. Donc moi, je suis revenu de Jérusalem avec vraiment le pouvoir de dire oui, de consentir, d'être plein d'un oui. Et vous savez, il y a une phrase d'un grand poète dramaturge français que j'adore qui est Paul Claudel. Paul Claudel parlait de l'amour, mais l'amour entre les humains, l'amour en l'occurrence entre un homme et une femme. Et il disait que l'amour, c'était consentir à aimer. Et maintenant, je suis un homme qui consent, c'est-à-dire qui consent à dire qu'il y a plus grand que moi, plus important que moi. En amour, bien sûr, puisque l'autre a plus d'importance que soi, si on l'aime. et puis, de manière générale, dans l'existence. Alors, je devrais dire que, selon moi, aussi, ci sont deux vérités, deux vérités, distinte. C'est une vérité razionale, que puis est la vérité, qui nous fait dire la vérité, et que deux plus deux fait quatre, pour dire. Et qui, les sentiments, ont une dimension assez limitée, parce que non est que, si on a une émotion particulière, ou un anélite de liberté, deux plus deux non fait plus quatre, il fait quatre, et basta. Donc, c'est une vérité de type universale, de type, appunto, razionale, scientifico, ce type de vérité. Et puis, c'est une vérité diversée, une vérité qui arrive dalle expériences vissues. Donc, une vérité qui riguarda le nostre spirito. Alors, Blaise Pascal, que, comme vous le savez, est ce philosophe franceux, qui était un philosophe, mais aussi un mathématic, qui est un peu un'affinité, diciamo, avec ce personnage, qui a été convertit, aussi lui, durant une nuit mistique, une expérience mistique, appunto, durant une nuit, lui dit que nous avons, nous avons, le spirito de la testa, de la rationalité, de la ragion, et puis c'est le cuore. Et le cuore et la ragion, selon deux ordres, complètement diverses, tant'è che, appunto, ci sono delle verità che si possono comprendere solo attraverso l'ordine della ragione e altre che si possono comprendere solo attraverso, appunto, il cuore. E quando io sono stato a Gerusalemme, ho vissuto un'esperienza che veramente ho vissuto come verità del cuore. È stata quella la dimensione in cui io ho vissuto questa esperienza e che mi ha cambiato il modo in cui mi rapporto alla fede, nel senso che non è più una scelta per me solo la fede, ma è un'adesione a ciò che io ho vissuto. E secondo me questo è importante dirlo, soprattutto oggi come oggi, perché oggi c'è molto la tendenza a dire subito no. Cioè, uno, anziché dire sì o comunque a considerare questa possibilità, dice no. E intelligente sembra essere soltanto chi si lancia in critiche dicendo no e quindi mettendo le mani avanti. Ecco, quello che io ho imparato e ho deciso di fare tornato alla mia viaggia a Gerusalemme è stato proprio dire di sì. Dovremmo provare a dire di sì, secondo me, magari dopo aver criticato, però appunto dire di sì piuttosto che dire no e poi rifiutarci addirittura magari di sperimentare, di provare a vivere qualcosa. Lo rifiutiamo a priori. Ecco, questo è qualcosa che io mi sono portato dietro proprio dal mio viaggio a Gerusalemme, ovvero la capacità di dire sì. E questo mi riporta anche a quello che Paul Clodel, il famoso appunto dramaturgo francese, poeta e dramaturgo francese, scriveva parlando dell'amore. L'amore magari tra un uomo e una donna, ma dell'amore in generale, ovvero amore, amare e consentire ad amare. Ecco, io in questo caso ho proprio preso questa decisione, ho deciso di consentire ad amare e secondo me è importante perché vuol dire consentire ad amare anche qualcosa al di fuori di sé, non necessariamente se stessi, ma aprirsi all'amore a qualcosa che è più grande di noi e che può anche essere non necessariamente l'amore come una persona, ma la vita in generale. Erika e Manuel Schmitt, noi non vogliamo farla stancare troppo, la lasciamo tra poco, vorrei però farle ancora una domanda se ci concede ancora cinque minuti. Lei ha citato Pascal e ha citato la notte di fuoco di Pascal, perché Pascal in una notte di novembre del 1654 vive un'esperienza vive un'esperienza che mette per iscritto e che dopo la morte di Pascal viene trovata questa pergamena cucita all'interno della sua giacchetta perché lui se la portava dietro non voleva dimenticarla ed è affascinante leggerlo perché lui dice dalle dieci e mezza fino a mezzanotte e mezza io ho vissuto fuoco, fuoco, il dio d'Abramo, il dio di Isacco, il dio di Giacobbe, certezza, oblio, pace, dimenticanza del mondo è ancora certezza e ancora fuoco. È affascinantissima perché si vede proprio lo sforzo umano attraverso la scrittura di raggiungere e portare in parole qualcosa che è però indicibile. allora siccome anche lei appunto ha tradotto in parole due esperienze mistiche io vorrei chiederle quali sono secondo lei se ci sono i limiti della scrittura perché anche rispetto al tema della morte c'è tanta letteratura sulla morte ma è difficile però veramente dire la morte perché nessuno l'ha mai sperimentata ed è tornato a raccontarla e quindi vorrei chiederle lei insomma che ha trovato le parole per dire tutto quali pensi siano i limiti della scrittura? Le mots hanno été inventati per descrivere il mondo visibile non il mondo invisibile quindi quando vogliamo raccontare un'esperienza mistica non abbiamo le mots e quindi siamo condamnati alla poesia siamo condamnati alla metafora on l'a condamnati all'equivalence e c'è per questo che mi piace tanto lire le poese e le poetessi mistiche perché anche se sono dei poeti o dei poetessi mistiche del Moyen-Âge o della Renaissance ho l'impression che loro texte hanno stato scritto proprio questo mattino perché si parlano con delle immagini che sono delle esperienze amoreose che sono le langage del corpo allora che se io li dei texti teologici delle stesse delle epoche io vedo del plattere del marbre e più rien è vivante quindi moi j'ai compito in vero due le che avevo di che pronounced guarda ho che and come E moi j'ai vraiment choisi le langage du corps. Je raconte le spirituel par le corps. Non è facile trovare le parole per parlare di qualcosa che non conosciamo, anche per parlare di qualcosa che è invisibile, anzi è assolutamente molto difficile. Non abbiamo questa capacità, è molto difficile farlo. Soprattutto è molto difficile farlo in maniera descrittiva, se vogliamo, perché se parliamo di qualcosa come un'esperienza mistica, le parole sono difficili da trovare appunto e bisogna cercare di utilizzare ad esempio delle metafore o comunque delle figure letterarie. Insomma in questo caso la poesia forse è la forma letteraria che più si adatta a questo tipo di racconto. Ed è per questo forse che se andiamo a leggerci le poesie dei poeti mistici, che siano del Medioevo, del Rinascimento, tu leggi una poesia oggi, qui, e ti sembra che l'abbiamo scritta stamattina. Perché? Perché comunque utilizza delle immagini che sono sempre valide, delle immagini riferite ad esempio all'esperienza amorosa, piuttosto che delle immagini riferite ad esempio al corpo. Ad esempio, ecco, io devo dire che ho scritto appunto di questo tipo di esperienze mistiche in due occasioni, come giustamente sottolineavi, e ho dovuto fare una scelta, ho dovuto trovare un linguaggio per parlare di queste esperienze mistiche per l'appunto alla luce delle considerazioni di qui sopra. E ho deciso di utilizzare come linguaggio il linguaggio del corpo. In sostanza ho deciso di parlare appunto dello spirito, di raggiungere questa dimensione spirituale proprio attraverso la dimensione corporea. Grazie, Erika e Manuel Schmitt. Noi, allora, visto che la dimensione corporea è il tramite anche per lei di una vita spirituale, non vogliamo stressare troppo la sua dimensione corporea, visto che è stanco e affaticato. Però la ringrazio enormemente, credo a nome di tutti, per essere stato qui presente in assenza o assente in presenza, insomma, come preferiamo dirlo. È stato davvero un piacere avere finalmente l'occasione di conversare con lei. Spero ricapiti, spero ricapiti a quattro occhi, magari in una prossima edizione di Torino Spiritualità. E io desidero ringraziare tantissimo chi rende possibile anche il fatto che io, che non so il francese, conversi con Erika Manuel Schmitt, che è Sara Cuminetti, sempre, sempre meravigliosa. E ringrazio tantissimo lei per tutto ciò che ci ha detto e per tutto ciò che ha scritto. Quindi grazie, 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 Erika Manuel Schmitt e alla prossima volta. E buona guarigione. Grazie, grazie a voi. Grazie, arrivederci. Grazie regia. Lasciamo pure libero Erika Manuel Schmitt. Arrivederci. Au revoir. Grazie. 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 Grazie.